Presidente, benvenuto a Gerardo. Grazie. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, non sarà facile oggi, però... Marco Bucci ci ha detto benvenuti a Genoa. Grazie a tutti. 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 anche a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Presidente, lei oggi compie 3.186 giorni di servizio della Repubblica nella sua carica più alta e rappresentativa. L'hanno definita il presidente dei record. Per me e per tutti i miei colleghi sarà per sempre il presidente dei sindaci. Il presidente che non è mai mancato a una nostra Assemblea da quando sette anni fa mi ha stretto con forza la mano a Bari nella mia città, poco dopo la mia elezione alla guida dell'Associazione dei Comuni. Il presidente che è arrivato nei comuni lontani, nelle nostre scuole, nelle periferie, sui luoghi delle tragedie, non ha fatto mancare mai una parola di conforto ai sindaci. Grazie ancora, presidente Mattarella, oggi mi permetto di dirlo anche a titolo personale a sette anni da quella stretta di mano a Bari nella mia città. Perché noi siamo quelli con i tre colori sul cuore, perché noi siamo i sindaci che uniscono l'Italia. Non dimenticatelo, non dimentichiamocelo mai. Evviva l'Italia dei comuni, evviva l'Italia dei sindaci. Buona Assemblea con tutto il cuore. Ciao. Rivolgo un saluto il più cordiale a tutti i sindaci e amministratori locali presenti. Un saluto al presidente della Camera, al vicepresidente del Senato, un ringraziamento al presidente del Consiglio per il suo messaggio, per la sua presenza poc'anzi. Un saluto al presidente della Regione, alle altre autorità. Un saluto al presidente De Caro, ringraziandolo tanto per il ricordo del presidente napolitano e per le parole così cortesie ai miei confronti. A desidero soprattutto ringraziarlo subito per la importante opera svolta in questi anni alla guida del Lanci. Un'opera efficace, autorevole e sempre indipendente, al servizio dei comuni e dell'Italia. Come indica la fascia dei colori, che ha poc'anzi con orgoglio indossato. Saluto il sindaco di Genova, capitale oggi dei comuni d'Italia, città che ha saputo affrontare la inaccettabile tragedia del Ponte Morandi, dando prova di grande impegno. L'importante risultato realizzato non chiuderà comunque mai la ferita, che resta insanabile per la città e per l'intera Italia. Saluto tutti gli amministratori dei comuni d'Italia, quelli che operano con la responsabilità della maggioranza e quelli che svolgono il prezioso ruolo dell'opposizione. Hanno tutti l'onere e il privilegio di essere protagonisti della vita dei nostri quasi 8.000 comuni. La istituzione più prossima ai nostri concittadini, con la consapevolezza di recuperare il senso della parola municipio, che dalla nostra tradizione, trattata dal latino, si traduce nell'assumere un compito, un dovere, un obbligo nei confronti dei cittadini. I comuni sono l'articolazione capillare della Repubblica, espressione dei valori costituzionali come ogni altra istituzione democratica. Più delle altre istituzioni hanno la responsabilità del contatto diretto, immediato, con le esigenze di chi vive nei loro territori. Di tutte le istanze che segnalano, sovente anche e ben oltre le funzioni comunali, di raccogliere le loro preoccupazioni e le loro attese, passa da qui la tenuta della coesione sociale e aggiungo lo sviluppo dell'Italia. Questa caratteristica dei comuni ne fa istituzioni dinamiche, non statiche, istituzioni in movimento, I stessi rapporti tra le articolazioni della Repubblica ne traggono vantaggio. I comuni sono infatti termometri immediati dello Stato di salute e della nostra comunità, indicatori sensibili di quali effetti possono provocare situazioni di crisi, scarsità di risorse, scelte compiute a livello regionale e statale. Ne sono testimonianze e temi poc'anzi evocati dal Presidente De Caro. I comuni, con le loro esperienze, sono nell'attenzione alla necessità e nella ricerca di risposte la prefigurazione di ciò che sovente viene poi raccolto nella legislazione e nelle scelte di governo. Lo sono stati sin dallo sviluppo della unità d'Italia, quando un tema come la conoscenza dei fenomeni sociali venne affidato all'Unione Statistica delle città italiane, l'Istat sarebbe avvenuta decenni dopo l'USCI, o quando, per corrispondere all'ansia di sviluppo delle città e alla elevazione delle condizioni di vita degli abitanti, si mette avvio a formule allora nuove sul terreno dei servizi, come l'acqua potabile, l'assistenza e la salute, l'energia e i trasporti, l'edilizia popolare, l'istruzione tecnica, esempi di welfare locale. I municipi sono stati centro e protagonisti dei processi di grande modernizzazione, sono permanenti laboratori di nuova partecipazione democratica e il pensiero corre al vissuto del decentramento amministrativo nei quartieri delle grandi città e nelle frazioni dei comuni, che si sviluppò negli anni Sessanta, capace di promuovere progetti civici. I comuni sono il primo banco di prova della vitalità di una democrazia della nostra democrazia e sarebbe un errore privilegiare scorciatoie su questo terreno. Proprio la vitalità che caratterizza il rapporto tra le persone e i comuni indica che va perseguita con ostinazione la strada del sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini, elemento certamente non secondario di legittimazione, anche per contrastare la preoccupante tendenza al disimpegno elettorale. L'Italia è ricca della varietà di specifiche caratteristiche territoriali. La sua bellezza, la sua storia, la sua cultura, persino le sue latitudini sono plurali. Le diversità accrescono il valore del nostro Paese. I comuni rappresentano questa diversità, dando la loro voce nell'ampia cornice della Repubblica. Investire sui comuni vuol dire quindi investire sulla concretezza della vita dell'Italia, sul suo futuro. La pluralità richiede sempre collaborazione. Avete di fatti sempre dimostrato saggezza nel non tardarvi nella logica delle piccole patrie per essere invece una grande forza nazionale, consapevole degli interessi generali, che dà senso e contribuisce alla direzione dell'Italia. Ci uniscono un compito e una responsabilità collettiva. L'attuazione della Costituzione, che pone sempre al centro la persona, la sua libertà, l'uguaglianza, lo sviluppo integrale. Oggi è il tempo della prova di dare piena attuazione al piano nazionale di ripresa e resilienza. Tante risorse, tanti progetti costituiscono nel loro insieme un'occasione storica per il nostro Paese, con la mobilitazione di importi ingenti, addirittura superiori a quelli del provvidenziale e mitico piano Marshall del dopoguerra. Si tratta di un grande e decisivo contributo per rinnovare e migliorare l'Italia e l'Europa nella capacità produttiva, nella sostenibilità dello sviluppo futuro, nella coesione sociale. Abbiamo conosciuto le stagioni dell'ammodernamento infrastrutturale. Abbiamo iniziato negli anni 2000 a ridurre le distanze con l'alta velocità ferroviaria e a collegare le varie parti d'Italia con le reti Wi-Fi. Abbiamo iniziato e questi percorsi vanno completati. Siamo di fronte a nuove stagioni sul terreno della mobilità, del digitale, della formazione che cambiano il modo di vivere e abitare, di produrre, di fare ricerca. È un'occasione irripetibile nel medio periodo per migliorare la qualità della vita delle famiglie italiane, delle nostre comunità. È questione che interviene anche sul tuttora il risolto problema dei divari tra aree montane, rurali e insulari e aree metropolitane. Va implementata positivamente la strategia nazionale aree interne, in coordinamento con le altre risorse destinate, una visione complessiva che sugga la tentazione dei compartimenti stagni. Centrare gli obiettivi del Piano è in tutta evidenza un traguardo a cui istituzioni, imprese e forze sociali sono chiamate a cooperare con il massimo impegno. Questa è la vera posta in gioco, il salto in avanti che possiamo fare insieme. Avete orgogliosamente rivendicato di aver risolto fin qui i compiti che vi erano stati assegnati e di avere rispettato le tappe previste e chiedete di ricevere come bene l'attenzione dovuta. Il Presidente De Caro poc'anzi ha ampiamente illustrato quanto questa partita sia cruciale. Ai Comuni è chiesto spesso di intervenire come pronto soccorso, di decidere in fretta, senza sovente avere certezza delle risorse necessarie ad affrontare le emergenze, con i sindaci in prima linea. È il caso delle calamità naturali, è il caso di flussi migratori di dimensioni non previste. Ciascuno deve fare al meglio la sua parte, sapendo che le politiche di mitigazione delle calamità devono essere accompagnate da adeguate politiche di prevenzione, così come è necessario dotarsi di visioni di ampio respiro per affrontare fenomeni epocali come le migrazioni, con cui ci si confronta in realtà da anni. Il vostro lavoro, il lavoro della comunità, degli amministratori locali, si fa sempre più complesso e impegnativo. Il nuovo solidarietà ai sindaci che hanno subito minacce, che affrontano pericoli e ostilità e continuano nel loro lavoro con sacrificio e dedizione. La Repubblica è consapevole del servizio che rendete alla comunità nazionale e per questo vi è riconoscente. È dai comuni, dalle città, dai Paesi che riparte la fiducia, una fiducia non astratta ma fondata sul lavoro concreto, consapevole della forza da cui trae origine. Celebriamo i cento anni della nascita di Italo Calvino e siamo qui in Liguria, la regione dove da giovane si è formato. Nelle città invisibili Calvino sogna e descrive luoghi immaginari, dove però il reale è vivo e l'ideale continuamente lo interroga e lo sida. Definisce le città, definizione che si aggiunge a quella che poc'anzi il senatore e il maestro Renzo Piano ci ha presentato. La città, scrive Calvino, ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto, di cui tu fai parte. I nostri centri abitati sono storia, progetto, impegno, speranza, percorso verso il futuro. Ciascuno di voi si propone di lasciarli più belli, più vivibili, più civili di quando li ha avuti affidati dal consenso elettorale. Un sogno e una promessa che ciascuno di voi avrà certamente fatto a se stesso. I comuni sono luoghi di democrazia dove questo percorso può essere condiviso. Auguri di buona assemblea. L'Italia conta su di voi. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti